Alla primavera scende in campo contro il Genoa, ma qua dobbiamo pensare alla prima squadra. Pochi giorni, ne abbiamo parlato l'altro giorno, pochi giorni, pochi allenamenti. Su cosa hai lavorato in questo poco tempo? Nelle cose generali e in alcune modifiche che cercheremo di apportare in alcune situazioni di gioco. E poi cercando di recuperare un po' il morale di una squadra che in questo momento ha avuto parecchie batoste. Per cui è una cosa necessaria cercare di andare in campo con una fiducia maggiore e soprattutto con uno spirito diverso. Contro il Crotone fu una gara sofferta perché il Crotone giocava una partita a Gagliarda. Dalla fine vinta in maniera rotonda nel tuo unicum in campionato. Le differenze che hai trovato tra quell'Inter, quel gruppo di ragazzi e quelli di oggi, quali sono quelle principali? La differenza era che qualche mese fa era una squadra che doveva ancora disputare praticamente tutto il campionato. Era ancora una stagione aperta. Adesso la stagione sta avvolgendo al termine e sembra una stagione fallimentare. Mi auguro che in queste tre gare invece possa diventare ancora una stagione molto positiva. Il tempo, la possibilità di farlo c'è e dipende solo ed esclusivamente da noi cercare di metterlo in campo. Buona conferenza. Cosa ti aspetti che ti chiedano? Non lo so, adesso mettono la prova, vediamo se sarò all'altezza. Andiamo anche noi a gustarci questa conferenza stampa. Alessandro, a te la linea. Grazie mister. Grazie a voi. Grazie a Roberto Scarpini. Nell'attesa all'ora di sapere cosa chiederanno a Stefano Vecchi, che si aspetta evidentemente anche lui diverse novità. di chissà che cosa i colleghi andranno a chiedere a quello che domani e per le prossime tre partite sarà l'allenatore dell'Inter che sta entrando in sala stampa. E allora linea alle parole della vigilia di Stefano Vecchi. Grazie. Buongiorno mister. Ciao. Sei rimasto spiazzato da questa decisione della società o un po' te l'aspettavi? Sì, assolutamente spiazzato perché dopo la sconfitta di domenica sembrava comunque tutto tranquillo, sembrava comunque una situazione che Pioli rimanesse anche perché aveva fatto il primo allenamento della settimana, per cui chiaramente mi ha colto di sorpresa la chiamata del direttore Osilio. E che squadra hai trovato anche rispetto a quella che avevi lasciato dopo De Boer? Una squadra che ha subito parecchie batoste e bastonate e che arriva da un periodo negativo. Qualcosa chiaramente l'hanno anche ammesso onestamente per colpa loro, per colpa, diciamo così, per qualche mancanza della squadra, dei giocatori e qualcosa anche per un pizzico, diciamo così, di buona sorte che è venuta meno in alcune gare, soprattutto nel derby, che è stata, diciamo così, forse l'ammazzata che ha messo in difficoltà ancora ulteriormente questo gruppo. Ciao Stefano. Ciao. Tu hai preso l'Inter l'altra volta in una situazione molto diversa, in difficoltà ma con una stagione ancora davanti. Adesso quanto è difficile per te cercare un po' di riaccendere l'interruttore in queste tre partite? È più difficile perché sembra una stagione che volge al termine in modo negativo. La difficoltà da parte mia è quella di fare in modo che questo gruppo e questa squadra e questo ambiente non dia già questa stagione per persa, per cui cercare di motivare la squadra, di motivare il gruppo, cercare di fargli capire che comunque si può ancora provare a fare qualcosa. È un obiettivo, non è facile da raggiungere ma è ancora possibile. E innanzitutto dipende da noi, indipendentemente da quello che fanno le altre squadre. Noi dobbiamo cercare di vincere perché dobbiamo provare ad approfittare eventualmente di un passo falso del Milan. Ma tu hai visto un po' nelle facce dei giocatori, anche parlando in questi giorni con la squadra, la voglia proprio di lottare e di provare a raggiungerlo questo obiettivo, che è un grande obiettivo anche societario, tra virgolette definirlo grande, insomma per quelli che erano i presupposti a inizio stagione, magari un po' esagerato. Però insomma magari la società vuole raggiungerlo, ma l'hai visto anche negli occhi dei giocatori questa voglia? Ma guarda, l'obiettivo mio è quello di cercare di dare un po' di ordine e di far trovare anche uno spirito giusto per la squadra. E la cosa migliore secondo me è pensare alla partita di domenica e basta. Lasciar stare quello che è l'obiettivo, lo sanno benissimo anche loro, che è ancora possibile. Però noi dobbiamo cercare di dare una svolta, noi dobbiamo cercare di finire meglio questa stagione. L'Inter per la squadra, per l'organico che ha, non può permettersi di finire una stagione con 8-10 risultati negativi, senza una vittoria, sarebbe assurdo, per il valore che ha questo organico e questa rosa. È chiaro che deve esserci un'inversione di tendenza, soprattutto dal punto di vista emotivo, psicologico, che poi tra l'altro si traduce anche sul campo, nella voglia di fare la corsa in più, nell'atteggiamento giusto, nell'aiutare il compagno, nel parlarsi. Questa emotività qua, questa cosa qua, ti permette di fare qualcosa in più che ultimamente purtroppo non c'era, non c'è stata. Ciao Stefano. No, scusa, senza mettermi in difficoltà, però appunto da questo punto di vista, insomma, la corsa in più, parlarsi un po' di più, insomma, non si è visto ultimamente per niente, né con il Cortone, né con la Sampdoria, né con il Genoa, cioè contro avversari che sinceramente, insomma, erano inferiori nettamente all'Inter. Allora ti chiedo anche io, ma cosa hai trovato in questo spogliatoio? Questi ragazzi si accorgono che comunque rischiano, tra virgolette, anche parte della loro carriera, perché insomma, sono un po' tutti... È vero quello che hai detto, a volte si fa l'errore di pensare che siccome giocano nell'Inter, abbiano un carattere, un temperamento che possono superare tutto. Questa squadra è composta da tanti bravi ragazzi, ognuno con la propria testa, e in un momento di difficoltà non sono riusciti a reagire. E quindi credo che da parte mia hanno bisogno di essere aiutati e al tempo stesso però chi continua su quest'andazzo deve essere per forza di cosa messo da parte. Quindi io questa settimana cercherò di mettere, domani cercherò di mettere in campo la squadra, a mio avviso migliore, è chiaro che poi dopo farò delle mie valutazioni, voglio vedere un'inversione di tendenza rispetto alle ultime partite. E ripeto, è una squadra... Il fatto stesso che abbiano ammesso di aver mollato da un punto di vista mentale è la dimostrazione di una squadra di ragazzi genuini, perché tanti l'avrebbero nascosto. E loro invece l'hanno messo anche in piazza, l'hanno ammesso. È una dimostrazione di umiltà, anche secondo me, perché potevano tranquillamente evitare di dire abbiamo staccato la spina. E loro la devono riattaccare per tanti motivi, anche solamente per il pubblico che c'è a San Siro. Sembra che ci sia ancora a Stadio tanta gente. E il fatto stesso che tanta gente abbia ancora voglia di venire allo Stadio e che l'Inter settimo in classifica abbia il record di spettatori in Serie A, non lo so, sarà perché per me è una novità ed è una cosa entusiasmante, ma mi auguro che anche i ragazzi possano domani recepire questa cosa e capirlo. Un'altra cosa, che si riferisce proprio al pubblico, insomma ci si attende, perché è stata preannunciata una contestazione particolarmente dura, ti preoccupa questo? Cosa pensi che possa accadere? Lo sappiamo, forse è anche giusto che il nostro pubblico faccia presente il loro dispiacere, sia critico nei nostri confronti. È normale che sia così. L'Inter è una società talmente importante che deve, e soprattutto anche questa squadra, un organico talmente importante, che come dicevo prima non può pensare di essere settimo in classifica, quindi spesso e volentieri i tifosi, anzi diciamo così, ormai sempre i tifosi, hanno sostenuto questa squadra. Domani credo che sia una cosa che ci sta e mi auguro, e l'ho detto anche ai ragazzi, domani bisogna essere veramente forti, perché dobbiamo avere la capacità e la bravura di fare in modo di dimostrare sul campo l'impegno e sono sicuro che in questo caso poi il nostro pubblico verrà dalla nostra parte. Cioè, lo è dalla nostra parte comunque, indipendentemente da tutto, però è chiaro che quello che succederà probabilmente domani è logico che ci possa stare, però sono tifosi comunque dell'Inter e sappiamo che sono attaccati alla nostra squadra. Ciao Stefano. Due cose, volevo sapere, cosa ti ha chiesto la società quando ti ha ridato questa seconda opportunità alla guida della squadra e la prima cosa che invece tu hai detto quando sei rientrato nello spogliatoio della prima squadra? Ma cosa mi ha chiesto la società? Mi ha chiesto di cercare di finire in modo degno questa stagione perché gli obiettivi sono ancora l'obiettivo è ancora possibile per cui cercare di fare il meglio possibile carta bianca su tutto per cui scelte, possibilità di far giocare chi voglio moduli vari, qualsiasi cosa carta bianca su tutto per cercare di fare di finire la stagione nel miglior modo possibile tenendo presente, ripeto che c'è ancora un obiettivo importante leggevo così ipotesi possibili sul fatto che potessi far giocare o convocare dieci primavera in prima squadra non sarà così finché sicuramente fino a quando ci sarà un obiettivo importante come quello dell'Europa League e quello che ho detto alla squadra la prima cosa che ho detto è che non penso che il valore dell'organico possa essere quello di una squadra al settimo posto Ciao Stefano buongiorno volevo chiederti questo si parla molto giustamente della squadra volevo fare una domanda proprio su di te tu sei sempre a disposizione è la seconda volta quest'anno che ti tocca fare il traghettatore tu come la come la vivi in questa cosa la vivi come un'opportunità anche per te ma insomma comunque vai in panchina sulla panchina dell'Inter per le prossime tre giornate quindi anche per te che cosa significa questo? ma per me è un onore per me è un onore allenare l'Inter è un onore è un orgoglio essere partito da qua essere ritornato qua ed essere partito da allenatore in promozione e avere queste opportunità e queste occasioni poi per me è un onore allenare una squadra di questo tipo e non posso che ringraziare la società per questa fiducia che mi dà questa dimostrazione di fiducia perché ripeto un obiettivo è ancora lì è un obiettivo importante per la società riuscire a raggiungere l'Europa League ma tu pensi anche che possa servire alla tua carriera questo anche prospettiva futura? ma indubbiamente sì però stiamo parlando di rinnovare il contratto per fare altri tre anni con la primavera quindi questo è un ambiente che mi vuole bene mi trovo bene so qual è il mio compito qual è la mia situazione in questo momento è quello di dare una mano a questa società e di allenare la prima squadra però come è successo prima a novembre ritorno tranquillamente a farmi le mie final eight con i miei ragazzi perché c'è ancora un lavoro in corso e in ballo poi è logico quando vai in panchina in una squadra di questo tipo è logico che per la mia carriera potrebbe essere sicuramente qualcosa di positivo le volevo chiedere visto che i nostri ascoltatori sono anche molti britannici un suo commento sulla prestazione fantastica di Antonio Conte con il Chelsea in Premier League sembra che gli allenatori italiani in Inghilterra facciano faville ha fatto qualcosa di straordinario ma nel senso stupiva il fatto stupiva all'inizio quando le cose non andavano molto bene perché ha fatto benissimo alla Juve ha fatto benissimo in nazionale e ha dimostrato anche in Inghilterra di essere un grande allenatore perché sa utilizzare qualsiasi tipo di modulo lo sa plasmare sui giocatori che ha a disposizione sa motivare i giocatori li sa allenare per cui è un top allenatore ma lo sapevamo Vorrei un chiarimento buongiorno prima lei ha detto che i giocatori hanno bisogno di essere speronati e chi continua con questo andazzo è giusto che venga messo la parte significa che c'è qualcuno tra i titolari che abbiamo visto nelle ultime partite che non è pronto a cambiare pagina a voltare a dimostrare di essere più attaccato alla maglia domani vabbè evitiamo di far pretattica o comunque così cercherò di dare a grandi linee continuità perché è assurdo sarei un pazzo cambiare con tre giorni di lavoro per cui domani credo che per qualcuno sia giusto dare dimostrazione di attaccamento di aver cambiato andazzo e poi è una scelta è una situazione che fa parte delle scelte del lavoro dell'allenatore poi in base a quello si fanno le scelte e ho letto che ci potrebbe essere una chance per Gabigol lei come l'ha visto demotivato pronto ma come gli altri nel senso che si sta allenando si sta allenando bene ripeto ci sono secondo me è giusto cercare di dare ancora un'occasione un'opportunità e pretendo ripeto che venga fatto qualcosa di diverso buongiorno mister nelle conferenze stampa di novembre quando era subentrato aveva detto che le parole chiave dei suoi discorsi erano ridare serenità convinzione entusiasmo e spensieratezza alla squadra quali sono un po' i punti che adesso andrà a toccare quali sono le parole d'ordine adesso portare un po' di entusiasmo in un ambiente che in questo momento qua è un po' diciamo così in difficoltà riportare un po' la voglia ancora di allenarsi con impegno quello che ho detto prima di riportare ancora la voglia di andare in campo e dare il massimo e poi dopo io credo che questa squadra se riesce ad esprimere ognuno dei propri giocatori riesce ad esprimere il massimo delle proprie potenzialità credo che si possa fare molto bene da qua alla fine però il problema è che bisogna esprimerlo durante la settimana e durante gli allenamenti il massimo per poi portarlo in campo la domenica io questa settimana li ho visti abbastanza bene un po' di fatica ad attaccare diciamo così la spina però oggi li ho visti molto bene sono fiducioso Ciao Stefano io volevo chiederti solo velocemente se c'è qualcosa che ti senti di dire alla tifoseria hai già detto che i tifosi hanno seguito in maniera sempre partecipe straordinaria questa squadra e continuano comunque a farlo anche un po' in vista di quella che sarà magari domani la contestazione se c'è un piccolo messaggio che vuoi mandare da parte tua anche se sei appena ritornato ecco ma l'altra volta quando quando ero subentrato avevo detto che se se uno voleva bene a qualcuno o qualcosa doveva cercare di sostenerlo nei momenti di difficoltà questo non me lo sento più di chiederlo ai nostri tifosi perché forse hanno avuto anche tanta pazienza comunque e lo dimostrano tutte le volte con le presenze allo stadio per cui gli chiedo di sostenerci se noi riusciamo ad avere un'inversione di tendenza di non presentarsi allo stadio chiusi e solamente orientati alla critica e alla polemica ma di rimanere un po' aperti alla possibilità che questa squadra domani possa fare una buona prestazione e che possa riuscire a trascinare i propri tifosi salve mister lei prima ha detto che non ci saranno dieci primavera all'interno dei convocati ed è assolutamente plausibile era pronosticabile visto che appunto comunque nonostante le ultime prestazioni avete ancora un obiettivo però considerate le difficoltà di organico per squalifico e infortuni che avete in difesa al centrocampo porterà qualcuno sì 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 Van Oysden e Gravion sono tre convocati sono due difensori centrali Van Oysden è un 99 belga è un giocatore a mio avviso di grandi potenzialità qualità tecniche struttura fisica e Gravion uguale caratteristiche forse diverse più fisicità è un ragazzo francese di colore ha discrete qualità tecniche sono due difensori centrali che secondo me possono fare una buonissima carriera e in questo momento qua si rendono utili Van Oysden è già con noi Gravion sta giocando adesso con la primavera e verrà con noi domani mattina Buongiorno mister intanto complimenti per la conferenza perché sto usando parole vere e giuste e le chiedevo abbiamo visto qualche foto che la ritraeva in dialogo con Icardi ha chiesto anche a lui di dare qualcosa in più da capitano come lo sta vedendo? A tutti o quasi tutti ho parlato è chiaro soprattutto con i giocatori più rappresentativi a Mauro ho chiesto la stessa disponibilità che ha messo in campo quella settimana che ho fatto a novembre dove l'avevo visto trascinatore capitano vero quello mi aveva impressionato di lui al di là del gol che ha fatto col Southampton dei gol che ha fatto poi col Crotone ed è quello che deve fare un capitano e io credo che lui per l'Inter credo sicuramente per l'Inter Mauro è un giocatore fondamentale imprescindibile e molte delle nostre fortune dipendono dalla squadra ma soprattutto da lui che possa essere il finalizzatore che conosciamo e in più visto che è bravissimo a far questo cercare di essere anche un riferimento per il gruppo in questo momento qua di difficoltà Buongiorno mister buonasera una domanda per caso ho avuto modo di incontrare Stefano Pioli di parlare con lui l'ho salutato quando è venuto a portare via la sua roba non c'è stato un colloquio no sinceramente ci siamo incontrati ci siamo salutati sono andato a salutarlo gli ho detto le parole che gli ho detto sono state Stefano mi dispiace lui mi fa guardano nel calcio funziona così e basta ci siamo scambiati solamente queste so cosa vuol dire perché è successo anche a me è l'unica volta che mi è successo a Carpi in serie B quindi so che a volte lo ritieni ingiusto sappiamo però che fa parte del nostro mestiere del nostro del nostro del nostro ruolo un'ultima cosa al volo posso? parlando di mercato vedendo la squadra attuale su quale reparto andrebbe a puntare o comunque a rafforzare a partire dalla prossima stagione? non voglio essere scortese o meno però sinceramente abbiamo parecchi problemi adesso e poi credo che ci sarà qualcun altro più adatto di me sappiamo tutti però soprattutto lo sanno soprattutto i giocatori che anche da queste tre gare qua la società farà delle valutazioni per cui in base a quello anche la società e chi di dovere farà delle valutazioni a me aspetta cercare di sistemare un po' questa situazione che già basta avanza grazie grazie a te grazie a tutti buon lavoro ciao le parole di Stefano Vecchi la sincerità tutta bergamasca del mister che ha detto quello che pensa non si è nascosto dietro a formule di circostanza ma ha messo a disposizione la sua professionalità anche nella conferenza stampa anche nel lavoro sul campo per regalare domani un'Inter degna e vincente contro il Sassuolo noi concludiamo qui questo nostro appuntamento con la conferenza stampa di vigilia tradizionale io vi ricordo il resto dei nostri appuntamenti l'informazione torna alle 19.30 alle 21 in onda countdown vi lascio alla partita in esclusiva della primavera quest'oggi allenata da Daniele Bernazzani è tutto continuate a seguirci a